A otto giorni dall'apertura del Sipario su Edoardo e Cristina, che inaugurerà la 44esima edizione della Rossini Opera Festival, fervono i preparativi nel backstage della Vitri Frigo Arena. Dalle scenografie del palco agli attrezzisti, dalle sartorie al trucco, maestranze al lavoro per un ROF 2023 che concentrerà i tre titoli delle produzioni nell'astronave che da sede alternativa è divenuta sede obbligata a fronte dei lavori al teatro Rossini prorogati al periodo autunnale. Un'edizione 2023 che era stata pensata a teatro ma che si è rimboccata alle maniche per ripensarsi negli spazi dell'arena. Anche in altre circostanze abbiamo risolto sempre con una seconda programmazione in tempi veloci, ricordo quella del Covid dove abbiamo fatto all'aperto tutto praticamente. Le capacità dell'arena sono tante per cui siamo contenti di poter offrire al pubblico le tre spettacoli qui. Titoli che si concentreranno alla scoperta del cosiddetto Rossini serio. Dall'apertura dell'11 agosto con la nuova produzione di Edoardo e Cristina per proseguire con la ripresa di Aureliano in Palmira e poi l'altra nuova produzione di Adelaide in Borgogna. E poi il consueto viaggio a Rams dell'Accademia Rossiniana, un fitto programma di sette concerti al teatro sperimentale prima della chiusura del 23 agosto con la Petite Messe Solenel. L'opera inaugurale che si vedrà per la prima volta qui al ROF, la 39esima del catalogo ufficiale di Rossini. Ma anche Aureliano in Palmira che è una ripresa della produzione di Mario Martone si è vista una sola volta e Adelaide di Borgogna una volta in forma di concerto e una volta in forma scenica. Per cui tre sorelle un po' dimenticate che noi presentiamo perché pensiamo che è missione del ROF far conoscere bene Rossini e soprattutto il genere serio. Intanto è un Rossini Opera Festival che si avvicina alla rassegna riscuotendo un entusiasmo tiepido al botteghino. Non sono al di sotto delle nostre aspettative, noi siamo stati prudenti e devo dire che rispetto all'anno scorso già sì è una cosa un pochettino più contenuta ma che riflette uno stato generale non dovuto a noi, non dovuto alla nostra programmazione ma è il momento di difficoltà economica un po' di tutti. Sebbene qui per esempio la parte che costa di meno è più che esaurita, insomma sono elementi da tenere in considerazione anche per il futuro.